Consigliere Monti, in sanità in questi primi due mesi qual è stata la misura di buon senso? Buon senso al governo di Regione Lombardia, oltre 100 milioni di euro stanziati per ammodernare i nostri ospedali lombardi. In poco più di tre mesi di governo già grandi risultati, questo è il buon senso al governo di Regione Lombardia. Assessore Piani, proprio in questi giorni è partito l'avviso per i comuni che vogliono... Aderire alla misura di migrati, come funziona? Funziona che si apriranno due finestre, i comuni dovranno profilarsi e poi da settembre le famiglie potranno fare richiesta della misura. Ricordo che quest'anno abbiamo ampliato ulteriormente la placchetta dei destinatari, quindi circa il 15% di famiglie in più potranno aderire alla misura di di gratis. Abbiamo stanziato in tutto 35 milioni di euro, quindi di nuovo il buon governo in Regione Lombardia e anche in questa misura lo abbiamo messo in pratica.